Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro, trasformata in un grande confessionale, dove 150 sacerdoti stavano amministrando il sacramento della riconciliazione ai giovanissimi protagonisti del Giubileo dei Ragazzi. E come loro, seduto all'aperto su una piccola sedia vicino al colonnato, con la stola viola sulle spalle, ha ascoltato le confessioni di 16 adolescenti, tra i 13 e i 16 anni. Il Papa è rimasto in piazza a confessare per più di un'ora, tra le 11.30 e le 12.45. Dopo la confessione, migliaia di ragazzi hanno attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Nel suo messaggio ai ragazzi per il loro Giubileo, a gennaio, il Papa ha scritto che la vostra è un'età di incredibili cambiamenti, in cui tutto sembra possibile e impossibile allo stesso tempo. Crescere misericordiosi come il padre, ha aggiunto Papa Francesco, citando il tema del Giubileo dei Ragazzi, significa imparare ad essere coraggiosi nell'amore concreto e disinteressato, significa diventare grandi tanto nel fisico quanto nell'intimo. Voi vi state preparando a diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di costruire ogni giorno, anche nelle piccole cose, un mondo di pace.